Bevi responsabilmente il patto tra pubblici esercizi e magistrati per una buona movida. Vediamo. Anche a Mantova è stato sottoscritto il patto Bevi responsabilmente. ANM e Fipe Conf Commercio si uniscono per contrastare l'abuso di Alcor e far crescere la consapevolezza tra ragazzi e gestori su legalità e buone pratiche. Ritengo che indubbiamente queste iniziative volte a promuovere la formazione e l'informazione siano fondamentali perché tendono ad educare, ad orientare quelli che sono i comportamenti sia dei gestori dei pubblici esercizi che dei consumatori e che sono fondamentali per fronteggiare la cosiddetta mala movida che poi altro non è che la degenerazione di un fenomeno come la movida che invece in sé per sé è un fenomeno che ha un aspetto esclusivamente positivo che va incoraggiato perché è un fenomeno di aggregazione culturale, di scambio interculturale che comporta un accrescimento oltre che culturale anche economico per la città. La Conf Commercio, la Fipe del territorio diventa il luogo in cui grazie anche ad un accordo con l'Associazione Nazionale dei Magistrati i vari soggetti che gestiscono questo rapporto che è molto complesso, che è fatto di diversi diritti, trova poi una sintesi, cioè una modalità più moderna di gestire un fenomeno complesso cercando di venire incontro alle diverse esigenze. Mantua attraverso questo evento rafforza il suo ruolo virtuoso per sostenere una buona movida grazie anche alle best practices sviluppate dagli imprenditori dei pubblici esercizi. Penso sia molto importante anche far conoscere tutte quelle misure che mettiamo in atto ogni sera durante gli eventi rivolti ai giovani e anche noi per prevenire l'accadimento di certe situazioni. Serve proprio un fare cultura continuamente nella nostra attività, significa avvicinare ulteriormente la clientela, capire che ci si può divertire senza dover fare cose sfrenate e sballando ma serve sufficiente cultura, serve sapere cosa si beve, come si beve e quando si deve bere. Un'iniziativa è finalizzata alla prevenzione, all'informazione perché la repressione arriva sempre dopo, dopo si può riprimere, si possono fare processi, si può contestare lo stato di ebrezza ma l'importante è formare i giovani e formare anche gli esercenti dei locali. Grazie.